L'acustica è una scienza precisa e complessa e ci sono molte variabili in gioco per cui bisogna provare e riprovare e usare le nostre orecchie per trovare i risultati migliori che soddisfi le nostre aspettative. L'acustica della stanza influisce sulla qualità del suono più di ogni altra cosa nella catena del suono, quindi più delle monitor da studio, più del microfono, più dei cavi, più di qualsiasi altra cosa e quindi è importante pensarci bene. Il trattamento acustico cosa fa? Modifica il modo in cui le onde sonore si propagano all'interno della nostra stanza o di un ambiente sonoro. Intanto dobbiamo pensare all'isolamento, prima di tutto, sound isolation, ovvero cercare di preservare la nostra stanza dall'influenza dei rumori esterni. Quindi se abbiamo una finestra e viviamo in un posto molto trafficato dove ci sono rumori che vengono dalla strada di fuori o vicini rumorosi, un negozio accanto, eccetera, dobbiamo cercare di mantenere il nostro ambiente più isolato possibile dall'ambiente esterno. Fatta questa premessa vediamo qual è il primo problema e forse il più grande nel trattamento acustico, il riverbero. Il riverbero si ha quando le onde sonore, riflesse da superfici rigide o dure, tornano indietro rimbalzando arrivando all'orecchio dell'ascoltatore o anche al microfono con un leggerissimo ritardo rispetto alle onde originarie, le onde dirette. Questo può creare delle difficoltà anche quando andiamo ad ascoltare le nostre registrazioni per individuare dei problemi. Supponiamo che stiamo facendo una registrazione come la sto facendo io adesso con un microfono qui sopra. Le onde sonore emesse dalla mia bocca si propagano in tutte le direzioni. Una piccola parte raggiunge il microfono e queste sono praticamente il suono diretto. La maggior parte di esse però viaggiano rimpalzando nell'ambiente circostante e queste vengono definite onde riflesse. Queste onde riflesse, alcune di queste onde riflesse finiranno per entrare nel microfono causando quindi dei disturbi, cancellando alcune frequenze e facendone sentire altre in modo non appropriato. Un altro problema oltre alle rumori che vengono dall'esterno e al riverbero all'interno della nostra stanza sono i cosiddetti modi propri, room modes, delle frequenze risonanti. Ha a che fare principalmente con le frequenze più basse che possono prevalere in un ambiente. Ha molto a che fare con le dimensioni e la forma della stanza. Le stanze rettangolari sono da preferire generalmente rispetto a quelle quadrate quindi se avete a priori la possibilità di scegliere scegliete quelle rettangolari. Andiamo a vedere quali sono dei possibili rimedi. Prima di tutto una premessa isolamento acustico versus trattamento acustico. L'isolamento acustico consiste nell'interruzione dei suoni provenienti dall'esterno verso l'interno o anche viceversa. Quindi usando materiali molto densi e sigillando tutte le possibili aperture dall'esterno verso l'interno. Sono due cose diverse. Per valutare se una stanza ha dei problemi a livello acustico un semplice test che possiamo fare è quello di battere le mani, il clap. Clap delle mani fatto in modo abbastanza vigoroso in vari punti della stanza. Usando le nostre orecchie potremmo sentire quali problemi ci sono. Spesso avvertiamo subito un riverbero come un suono spiacevole e metallico. Soprattutto, dipende dalle stanze, soprattutto se battiamo forte verso i soffitti. Quando le stanze sono vuote c'è un forte riverbero. Fate questa prova e sentirete. I primi rimedi che possiamo usare? Un bel tappeto. Un bel tappeto per terra. Più alto possibile. Più è alto e di materiale denso più assorbe il suono. Perché il pavimento come il soffitto e le altre pareti è una superficie sulla quale il suono si riflette e torna indietro e rimbalza. Quindi un bel tappeto potete acquistarlo su Amazon, Ikea, insomma dove volete. Non deve essere un tappeto particolare. Anche le finestre sono un punto di riflessione. Quindi tende, tende. Copriamo le finestre con le tende. In molti studi di registrazione noteremo che ci sono parecchie tende. Le tende infatti, soprattutto se spesse, assorbono il suono e quindi diminuiscono la riflessione. Di solito più una stanza è piena di cose, librerie, libri, scaffali, più la riflessione del suono è attenuata. Quindi rispetto ad una stanza vuota, una stanza incasinata, a volte è migliore. Cosa possiamo mettere nella nostra stanza quindi per fare questo trattamento acustico? Allora, al primo posto abbiamo il bus strap, ovvero le trappole per i bassi, quelle che assorbono le frequenze più basse. Abbiamo poi i pannelli che assorbono le frequenze medio-alte e infine abbiamo i diffusori che disperdono le frequenze rimanenti. Le bus strap sono dei pannelli triangolari molto spessi che si mettono negli angoli delle stanze e servono per assorbire l'energia delle frequenze più basse. Assorbono comunque anche le medio-alte in parte. I più diffusi sono gli assorbenti porosi e possono essere fatti in schiuma acustica, lana di vetro, lana di roccia. Andate a posizionare questi per primo. È il primo intervento che va fatto in una stanza. Se andate a mettere i pannelli, quelli classici che si vedono, che assorbono le frequenze medio-alte, avremo un innalzamento dell'energia delle basse frequenze e quindi manderemo tutto all'aria. Quindi posizioniamo queste negli angoli delle stanze. Se avete la possibilità si può partire dal basso e arrivare fino all'alto, altrimenti mettetela una in basso, una a metà, una in alto o almeno in alto nei quattro angoli. Possono essere messi anche sugli angoli dietri. Le porte delle stanze, soprattutto se di legno spesse, assorbono in parte le basse frequenze. Io infatti l'ho lasciata abbastanza libera mettendo soltanto un pannello per assorbire le frequenze medio-alte nel mezzo. Abbiamo poi i pannelli acustici, Sound Absorbing Panels. Assorbono le onde sonore di frequenze medio-alte e le dissipano all'interno del loro materiale. Hanno diverse altezze. Vi sconsiglio le più economiche e le più basse da due centimetri e due centimetri e mezzo perché non assorbono quasi nulla. Un'altezza ideale è quella che parte dai 5 centimetri in su. Se superano appunto i 5-6 centimetri assorbono oltre alle frequenze medio-alte anche parte di quelle basse. Il pattern della loro superficie sembra non influire più di tanto sul risultato per cui insomma le classiche vanno benissimo. Evitate di spendere pochissimo prendendo materiale di scarsa qualità. Ci sono di vari prezzi. Io per esempio ho preso un pacco su Amazon in cui erano incluse 4 bus strap e una decina di pannelli isolanti. Vengono tutti compressi, infatti è arrivato e sembrava un materasso. Questo è un pannello fonoassorbente a un'altezza di 6 centimetri, quindi può assorbire le frequenze medio-alte e anche un po' di bassi. Ma dove li posizioniamo questi pannelli riflettenti? Cerchiamo di privilegiare le posizioni che causano il riverbero principale sull'ascoltatore. Mettiamoli dietro le casse monitor da studio. Poi ai loro lati, secondo la regola dello specchio riflesso. Vi dovete far aiutare da un amico, da qualcuno. Praticamente voi vi mettete nella posizione classica in cui state, la posizione dell'ascoltatore. Al lato destro e poi al lato sinistro fate mettere qualcuno con uno specchio, tiene uno specchio e si muove. Quando nello specchio vedrete riflesso il monitor da studio, quella è la posizione in cui va messo il pannello. Poi, posizione retrostante, quindi dietro alle spalle dell'ascoltatore, vi consiglio di montarli sfalsati, non tutti attaccati, quindi sfalsati con un po' di spazio tra di loro. Metteteli sfalsati e non in linea anche da una parete rispetto a quella opposta, lasciando quindi libero il punto di riflessione dove è già presente un pannello nella parete opposta. Quindi non così, ma sfalsati. Come montarli? Allora, vendono di solito a bombolette con la colla per il foam, che sarebbe il materiale principale col quale sono costruiti i pannelli acustici. Questa colla è molto forte e li attacca bene, però il problema è che una volta che decidiamo di staccarli, questa colla ruinerà sia la parete sia il pannello, che spesso poi è da buttare. Io ho trovato dopo varie ricerche e un po' di sperimentazioni una soluzione che è sicuramente più costosa, ma preserva sia le pareti soprattutto che i pannelli e ha anche la caratteristica di poter staccare e riattaccare i pannelli quando ne abbiamo bisogno. Quindi se fate questo lavoro in una vostra stanza dell'appartamento potete anche mettere questi pannelli e levarli all'occorrenza. Rimarrà una striscetta. Questo metodo è quello, la linea command della 3M. Sono delle striscette, praticamente, se ne attacca, si staccano, se ne attacca una sul pannello, una sul muro, vanno a pressione e terranno attaccate entrambi. Possono essere poi staccate all'occorrenza, come dicevo. E una volta che non servono più, questo è quello che magari rimarrà sulla parete. Quando la vorrete levare basta tirare questa striscetta verso il basso. A montarle ci vuole veramente un attimo, è più il tempo che bisogna prendere le misure se volete mettere i pannelli creando dei pattern visivi un po' migliori, soprattutto se fate questo lavoro in casa. Infine, un'ultima cosa da valutare è se c'è bisogno, anche, spesso c'è, di mettere dei pannelli riflettenti anche sul soffitto. Fate la prova col clap delle mani e vedrete. Quando fate il trattamento acustico, la cosa ideale sarebbe quella di mettere un pannello ed eseguire la prova. Quindi cercare di costruire man mano, con un passo alla volta, il trattamento acustico della stanza. Quindi non montare subito tutto, come ho fatto io, ma fare passo passo. Ci si accorgerà magari che alcune soluzioni non sono ideali. Io tra l'altro ho tenuto dei pannelli staccati che all'occorrenza posso andare a sistemare in alcuni punti che reputo possano dare qualche problema. Una soluzione valida e esteticamente sicuramente più piacevole è quella rappresentata dai pannelli acustici fonoassorbenti montati su telai. Abbiamo un tessuto, non tessuto, fatto spesso di lana di vetro, montato su dei telai. Questi tessuti a volte sono anche rimovibili, lavabili. Sono decorativi perché si possono scegliere vari colori e varie grafiche, per cui si adattano bene anche in un appartamento. Praticamente c'è quest'intelaiatura, è montato questo tessuto sopra e poi c'è uno spazio d'aria calcolato con precisione che permette di assorbire e diffondere poi le onde sonore. Un'altra soluzione ancora sono i sound blankets. Questi sono dei grossi tappeti molto spessi e hanno una forte potere assorbente del rumore. Infatti a volte vengono usati anche per evitare rumori di vicini molesti. Vengono venduti in varie misure, il costo non è eccessivo e non sono esteticamente molto belli, per cui spesso si usano quando alcuni fanno dei video magari in cantine, in garage o in posti così. Possono essere utili se uno non vuole rovinare le pareti attaccando pannelli fonoassorbenti. Oppure possono essere a volte utili quando uno deve portarsi questi pannelli per andare magari a girare, a registrare in luoghi dove non c'è una buona acustica e dove non è possibile fare naturalmente un trattamento acustico. Si possono con degli statevi montare questi sound blankets e possiamo avere un buon risultato. Un consiglio per quanto riguarda uno degli elementi principali della nostra catena sonora, ovvero i monitor da studio, è il loro posizionamento. Evitate di metterli attaccati alle pareti perché attaccati alle pareti causano una risonanza delle frequenze più basse. Una fonte sonora come le casse monitor da studio mandano le onde sonore in tutte le direzioni, non in una direzione. Quindi se dietro non c'è un po' d'aria tra la parete e la cassa da monitor si crea un'energia delle basse frequenze che andrà a cancellare alcune frequenze. Quindi se è possibile, se avete la possibilità, staccate di una 40 centimetri le casse dal muro. Posizionate poi come ho detto prima anche dei pannelli con un'altezza maggiore di 5 centimetri in modo che assorbiranno parte delle basse frequenze che vengono riflesse. Infine possiamo utilizzare anche i pad per i monitor da studio, ovvero dei pannelli fonoassorbenti fatti sempre in schiuma acustica come i pannelli di cui abbiamo parlato da mettere sotto i monitor da studio. In questo modo non verranno trasmesse le vibrazioni alla scrivania. Possiamo in alternativa montare anche, ci sono degli appositi stand a porta monitor e quindi svincolare le casse dalla scrivania. Se fate anche podcasting controllate che non ci siano riflessioni sulla scrivania delle onde sonore e quindi al limite mettete anche lì un pannello fonoassorbente. Negli studi professionali dove la sala di registrazione è distinta dalla sala del mix, dalla sala regia, naturalmente ci saranno degli accorgimenti particolari per ognuna delle due. Per chi registra invece e fa editing audio nella stessa stanza dovrà trovare un compromesso. Tutti questi accorgimenti, ovvero un setup accurato e la correzione acustica della stanza, serve a minimizzare gli effetti che l'ambiente ha sulle nostre registrazioni e sul nostro ascolto. Ok, ma se non possiamo attuare queste correzioni per i più svariati motivi, per motivi strutturali, economici eccetera, come possiamo fare? Ci sono delle cose che possiamo adottare? Certo, vediamone qualcuna. Allora, per quanto riguarda la registrazione con microfono, possiamo utilizzare il close micing, ovvero avvicinarsi il più possibile al microfono senza avere l'effetto prossimità per favorire e prendere nel microfono la maggior parte possibile di suono diretto. Possiamo poi usare un microfono dinamico invece che un accondensatore perché il microfono dinamico risente meno dell'ambiente intorno, dell'ambiente circostante, anche se poi non restituisce un suono come fa il microfono a condensatore. Comunque dipende dai vari usi che bisogna farne. Possiamo usare materassi, tende e vestite pesanti nella nostra stanza. Quando registriamo magari un voice over possiamo mettere alle nostre spalle uno o due bei materassi belli spessi, possiamo chiudere tutte le tende possibili, mettere pile di vestiti pesanti eccetera, perché questi assorbono, assorbono le onde riflesse e quindi aiutano comunque a registrare in modo migliore. Possiamo usare i filtri antiriflesso da mettere dietro al microfono, una sorta di cortina di pannelli fonoassorbenti. Quanto siano effettivi non lo so, non l'ho mai provati, però bisogna considerare certo che ci saranno onde riflessi dietro a noi e che vanno anche sopra lateralmente. Inoltre se dobbiamo fare un voice over sarà difficile se dobbiamo leggere un testo poterlo leggere avendo questa cortina davanti. Se dobbiamo fare un semplice voice over in casa conviene andare nell'armadio, aprire le ante dell'armadio e registrare mettendoci all'interno dell'armadio il più possibile. Un armadio pieno con tutti i vestiti sicuramente vi farà ottenere un suono ottimale. Spero che queste indicazioni vi siano utili e alla prossima. Ciao!